Musica Nel 1948, 70 anni fa, è venuto l'incontro a Roma, alla Camera dei Deputati, tra Chiara Lubec e Gino Giordani. Lei ha 18 anni, di una piccola provincia nel nord d'Italia. Giordani, 54 anni, con una vasta esperienza politica, sociale e culturale. L'incontro con Giordani porta nel cuore di Chiara l'umanità, la storia, con le sofferenze, le conquiste, la ricerca di un ideale vero. L'incontro con l'ideale dell'unità offre a Giordani un nuovo impulso alla sua attività politica. Questo si vede dagli applausi ricevuti al Parlamento dopo il suo discorso sulla pace universale. Anche in quegli anni, Giordani propone il primo progetto di legge sulla obiezione di conscienza. Ben presto, attorno a Giordani, si raccoglie un gruppo di deputati che cercano a condividere le ideali di unità e praticarlo in Parlamento. Si sperimenta lì, per la prima volta in un sette politica, l'arte di amare. L'arte di amare. In una città ci sono tanti arti, tanti mestieri, tante professioni da imparare, è vero. Ma quest'arte, chi la insegna? Forse sì, possiamo impararla, poiché c'è una regola d'oro antica come l'umanità. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non le hagas a nadie lo che non ti gusta a ti. Non d'entre voi, non c'è un croyant, s'il ne desire pas per son frère, c'è qu'il desire per lui-même. Whatever is disagreeable to yourself, do not do unto others. Para avere l'espirito universal e penetrante della verità in la cara, uno deve essere capace di amare a le criaturi più vivi come a uno stesso. This is the sum of duty. Do not do unto others. That which would cause you pain, if done to you. O respeito, per tutte le forme di vita, è il fondamento. E' una regola d'oro, anche in politica, come ha detto Chiara Lubic al Consiglio Comuniale di Roma nel 2002. Sì, sapere amare, perché l'amore cristiano è un'arte. E occorre conoscere quest'arte. Ha detto un grande psicologo del nostro tempo, la nostra civiltà molto raramente cerca di imparare l'arte di amare. E nonostante la disperata ricerca di amore, tutto il resto è considerato più importante. Successo, prestigio, denaro, potere. Quasi ogni nostra energia è usata per raggiungere questi scopi, e quasi nessuna per conoscere l'arte di amare. La vera arte di amare emerge tutta dal Vangelo di Cristo. E' essa il primo, imprescindibile passo che possiamo compiere per poter scatenare quella rivoluzione pacifica, ma così incisiva e radicale, che cambia ogni cosa. E' il segreto di quella rivoluzione che ha permesso ai primi cristiani di invadere il mondo allora conosciuto. E' un'arte impegnativa, con forti esigenze. Ricordandola, oggi vorrei offrirla a loro, signori, alla loro attenzione, come un piccolo dono, come un piccolo fiore, perché, se lo desiderano, possiamo insieme aiutarci a diffonderla ovunque a Roma, perché Roma diventi per il mondo quel braciere di fuoco e di luce che non può non essere se deve cooperare a portare in esso l'unità. E' un'arte che vuole si superi il ristretto orizzonte dell'amore semplicemente naturale, diretto spesso quasi unicamente alla famiglia, agli amici. Qui l'amore va indirizzato a tutti, al simpatico e all'antipatico, al bello e al brutto, a quello della mia patria e allo straniero, della mia o di un'altra religione. Della mia o di un'altra cultura, amico o avversario o nemico che sia, occorre amare tutti, come fa il Padre del Cielo, che manda sole e pioggia sui buoni e sui cattivi. Così. E' un amore che spinge ad amare per primi, e questo è forte, sempre, senza tendere ad essere amati, come ha fatto Gesù Cristo, il quale, quando eravamo ancora cattivi, e quindi non amanti, ha dato la vita per noi. E' un amore che considera l'altro come se stesso, che vede nell'altro se stesso. Diceva Gandhi, tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza terribili. Quest'amore non è fatto solo di parole o di sentimento, è concreto. Esige che ci si faccia uno con gli altri, che si viva in certo modo l'altro, nelle sue sofferenze, nelle sue gioie, nelle sue necessità, per capirlo e poterlo aiutare efficacemente. Quest'arte vuole che si ami Gesù nella persona amata, anche se diretto quest'amore a quell'uomo, a quella donna particolare. Egli, Cristo, infatti, ritiene fatto a sé quanto di bene e di male si fa loro. Lo ha detto, lo ha ripetuto, parlando della grandiosa scena del giudizio. L'hai fatto a me, l'hai fatto a me. Infine, quest'arte di amare, vissuta da più persone, porta all'amor reciproco, in famiglia, sul lavoro, nei gruppi, nel sociale. Amore vicendevole, perla del Vangelo, comandamento nuovo di Cristo, che costruisce l'unità. Eccellenze, signore e signori, amici, se non l'avesse ancora fatto, che il Signore voglia incendiare tutti noi del vero amore. È la cosa che più vale. Senza di esso tutto perde senso. Anche il sapere la lingua degli angeli, come dice Paolo. Anche il dar tutto ai poveri. Anche il dare il proprio corpo alle fiamme. L'amore è la vita del mondo. Bruciamo dal desiderio che chi vede Roma possa dire dei suoi cittadini quello che si affermava dei primi cristiani. Guarda come si amano. E l'un per l'altro è pronto a morire. Chiara ha parlato a Roma, ma vale per tutte le città. Vorremmo capire meglio come si può attuare nelle politiche urbane, nelle buoni prassi dentro delle nostre città. Invitiamo per questo Marco Filippeschi, già sindaco di Pisa, una città nel centro d'Italia, nota per la sua torre pendente, per essere la patria di Galileo Galilei e per la sua università. Invitiamo anche, e scusatemi sulla pronuncia dei nomi, Danuta Kaminska, vicepresidente della città metropolitana di Katowice e per un lungo periodo assessore al bilancio della città di Katowice. Potete cominciare a venire mentre vi chiamo. Atateo Ciacansky, incaricato dal dialogo interreligioso a Katowice. Angel Mire, già dirigente delle politiche Scali della Comune di Barcellona. Adesso attualmente coordinatore del Comitato di Accoglienza dei Rifugiati della Catalogna. Isedin El-Zir, palestinese, stilista e presidente della Comunità Islamica di Firenze e della Toscana. Maurizio Certini, direttore del Centro Internazionale Giorgio Lapira in Firenze, membro del Consiglio Nazionale della Fondazione Migrantes. Nicolás Goloré, Vivre Ensemble, Cannes France. E poi Francesco Tortorella Dall'AMU, Azione Mondo Unito. A lei quindi, dottore Filippeschi, conduci a scoprire come attuare la regola d'oro nelle politiche di una città, come fare in modo che tutti possano godere di una pena effettiva cittadinanza. Grazie, un applauso per loro. Allora, diamo inizio a questo panel. Il tema della sessione e anche della mia presentazione è per una piena cittadinanza quali politiche pubbliche e quali competenze. Qual è la prospettiva della cittadinanza urbana visti i cambiamenti della composizione della popolazione urbana? Cambiamenti che sono al centro e generano tanti altri cambiamenti nelle opinioni pubbliche, nelle politiche pubbliche, ne discutiamo dando per scontata una valutazione critica delle cause delle migrazioni interne per i fenomeni di forte urbanizzazione che, come sappiamo, non avvengono per caso e dall'esterno che avvengono per il sottosviluppo e lo sfruttamento, per i conflitti e per le prime conseguenze della crisi climatica per il confronto fra stati di vita reso oggi molto facile dalla rete per il consumismo che viene alimentato, che è stato alimentato. Servono politiche di giustizia e di riequilibrio contro la logica dello scarto, citando Francesco, garantendo in ogni caso il dovere cristiano dell'accoglienza e della solidarietà, un dovere di fraternità, di amore per ogni persona bisognosa e riteniamo che si dovrebbe raggiungere un governo globale delle migrazioni esterne che consentisse programmazione e sostenibilità per ogni paese. Il concetto di cittadinanza urbana sottolinea non solo l'integrazione ma anche il senso d'appartenenza, i diritti e l'identità. Sottintendo uno sguardo rivolto all'intera popolazione per una crescita civile delle comunità cittadine in una prospettiva più ampia. Ci permette di esaminare l'interazione tra i diversi livelli di governo. Quindi è un tema centrale per il concetto di co-governance che qui abbiamo cercato di sviluppare. E dunque alcune raccomandazioni che vogliamo discutere oggi riguarda le politiche urbane. L'intento è quello di fissare una griglia di proposte valide per le città di ogni paese che renda più facile fare progetti e esperienze che consenta di monitorare i risultati delle innovazioni che si fanno. È ampiamente provato come l'integrazione si può garantire solo con una governance multilivello. Dunque, cosa si deve fare? In primo luogo servono figure politico-amministrative capaci di agire in rete per evitare dispersivi approcci parziali essendo le politiche di integrazione necessariamente multidisciplinari e integrate. Va resa possibile la valutazione dell'efficacia delle politiche per l'integrazione a livello locale con la proposta di standard valutativi da rendere riconosciuti nella legislazione e per le azioni di programmazione. Saranno utilissime le reti trasnazionali di città che dimostreranno la forza del confronto fra le differenze per fare unità nella differenza e direi che anche il nostro convegno dimostra quanto le reti possono essere generative. Affermare la cittadinanza urbana che vuol dire che significa le città non sono semplicemente parte di uno Stato ma hanno una propria logica di appartenenze e di dinamiche demografiche e perciò serve una cultura nuova. Il profilo o il carattere di una città va aggiornato rispetto all'impatto che oggi le città vivono per le dinamiche per l'effetto delle dinamiche globali. appartenere ad una città non è questione di origine o di etnia ma invece di un insieme di diritti e doveri concordamente accettati di un patto di comunità urbana. Le popolazioni delle città sono già oggi il risultato di migrazioni interne ed esterne. Si deve far fronte alle evoluzioni anche a quelle dovute a esagerazioni interessate alla speculazione sulle paure per i fenomeni di criminalità o per il degrado in tante periferie urbane. Comunque alle ansie dei cittadini si deve sempre dare una risposta non si può fare soltanto la lezione ai cittadini da illuminati e le comunità etniche o di fede possono sottoscrivere come è già avvenuto in alcuni casi patti promossi dai comuni che impegnino anche ai doveri e si devono insediare consulte o instaurare sistemi di ascolto permanenti. Le città devono prendere posto accanto agli stati e alle istituzioni sovranazionali o nelle istituzioni sovranazionali per contribuire alle politiche di integrazione. Questa è una rivendicazione molto importante che chi rappresenta le autonomie territoriali deve proporre con forza alle istituzioni sovranazionali per l'Italia all'Unione Europea per esempio questo vale anche per l'associazione città per la fraternità che è copromotrice di questo meeting di questo convegno si deve rafforzare un sistema di prima accoglienza strutturale non solo strutturato strutturale cioè che ha una dinamica di evoluzione e che è stabile con l'adozione di standard predefiniti e condivisi che rappresentino gli obiettivi e la base valutativa che integrino gli indicatori di benessere e di sviluppo sostenibile urbano e qui faccio riferimento per esempio alla traduzione che dobbiamo fare in ogni città dell'agenda globale 2030 approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite che è ancora largamente da attuare serve avere un approccio integrato all'accoglienza volto a mettere in comunicazione misure e servizi dei diversi attori locali pubblici e privati per far fronte agli accessi di profughi e rifugiati richiedenti asilo e anche alle migrazioni per ragioni economiche si devono perseguire strategie comunicative rivolte alle comunità locali che vanno informate sensibilizzate e accompagnate le crisi che viviamo con effetti che preoccupano per lo sviluppo della democrazia e la convivenza pacifica sono dovute alla povertà delle politiche attuate bisogna riconoscerlo quando è necessario bisogna essere anche autocritici non si è fatto l'investimento necessario di intelligenze e di risorse di fronte a cambiamenti tanto grandi e tanto veloci dunque c'è un voto da colmare purtroppo hanno dominato la scena criticità e esasperazioni con una troppo debole valorizzazione delle esperienze positive virtuose come quelle che oggi e in queste giornate presentiamo passiamo ora ai diritti di cittadinanza fondamentali da garantire solo per titoli primo quello all'istruzione il diritto all'istruzione per tutti specialmente per i più svantaggiati appartiene alla legislazione nazionale o regionale l'azione della società civile deve incidere su questi livelli di legislazione si aiutano le città se insieme agli amministratori si coopera per incidere sulle politiche a questo livello le diverse lingue e risorse culturali sono un'opportunità per tutti gli studenti così si deve vivere il cambiamento nelle scuole è ormai necessaria una graduale trasformazione dell'offerta formativa in senso interculturale prendendo atto del pluralismo senza compiere l'errore di mortificare i caratteri culturali o religiosi prevalenti cioè agendo con intelligenza quelli che rassicurano le parti maggioritarie delle comunità cittadine fondamentale è l'incontro delle famiglie nell'ambito delle scuole dell'infanzia e primarie in primo luogo l'apertura delle scuole intese come luoghi fisici come contenitori in orari non didattici con un'integrazione fra socializzazione amicizia fra le famiglie che è fondamentale perché corrisponde poi all'amicizia alla convivenza in parità fra i bambini fra i ragazzi e le e le ragazze didattica di cittadinanza e apprendimento delle lingue nella didattica di cittadinanza non c'è soltanto il necessario insegnamento l'educazione ai diritti fondamentali delle nostre costituzioni ma c'è anche l'educazione all'adattamento a vivere in solidarietà e in felicità i cambiamenti che sono dovuti a flussi che ci sovrastano poi il diritto al lavoro qui un'indicazione i funzionari degli uffici dei comuni devono possedere competenze per offrire risposte sia ai cittadini nativi che a quelli non nativi spesso queste competenze ancora oggi non ci sono siamo male attrezzati c'è un grande campo di formazione specialistica dunque da coltivare servono politiche specifiche le politiche del lavoro coinvolgono molti attori e il coordinamento tra gli attori è fattore di successo questo credo sia un campo ulteriore di co-governance in questo caso tra attori pubblici e attori privati la cooperazione con i lavoratori e il supporto al settore privato sono elementi determinanti c'è spesso necessità nei nostri paesi di offerta di lavoro che va sottratta a precarietà e sfruttamento c'è dunque necessità e disponibilità di tanti imprenditori anche i sindacati dei lavoratori possono svolgere un ruolo attivo sentirete fra poco dell'esperienza di fare sistema oltre l'accoglienza i progetti che saranno presentati qui illustrati brevemente questo credo sia un buon esempio pratico che dimostra cosa si può fare cooperando per andare oltre la prima accoglienza e creare l'adattamento necessario poi l'accesso ai servizi sanitari il sistema sanitario deve essere basato su bisogni delle persone e dunque occorre rimuovere gli ostacoli che toccano alcune persone le città quando non gestiscono direttamente i servizi devono rivendicare politiche nazionali e regionali mirate che aiutino a superare questo aspetto delle crisi urbane occorre riformare la legislazione e i protocolli che impediscono restringono l'accesso ai servizi sanitari in base alla residenza o alla cittadinanza legale si devono implementare misure proattive in cooperazione con la società civile per accrescere l'accesso ai servizi sanitari già oggi il terzo settore così lo chiamiamo nel nostro paese in Italia cioè il privato sociale le cooperative il volontariato strutturato offrono un'indispensabile risposta pubblica in una dimensione di sussidiarietà qui credo sia normale riconoscerlo ma come vediamo non tutti la pensano come come noi e in ultimo la pianificazione urbana al servizio di un nuovo concetto di cittadinanza dobbiamo proporre e mettere in atto grandi idee e progetti a lungo termine investendo nel sistema dei trasporti negli spazi verdi in particolare l'urbanizzazione rende più stringente il diritto alla mobilità collettiva a costi sostenibili serve una nuova pianificazione del verde urbano come salvaguardia ambientale come ho detto con agende urbane che traducano gli obiettivi di quella del 2000 per il 2030 approvata dall'ONU e per creare nuovi luoghi di socializzazione piazze parchi impianti per lo sport percorsi camminabili e ciclabili di salute che siano punteggiati da centri di ritrovo da luoghi di socializzazione delle persone dei giovani e delle famiglie è fondamentale la sostenibilità del mercato immobiliare e la presenza di alloggi sociali e di case a buon mercato perciò serve un rilancio degli investimenti questo diciamo è una scelta politica che i governi ai diversi livelli devono fare e anche serve un'adeguata politica dei suoli una politica che consenta alle comunità locali alle istituzioni locali di avere una facilità nel dominare il mercato immobiliare e sappiamo che spesso così oggi non è a favore quindi dell'interesse pubblico per incrementare il patrimonio abitativo pubblico e quello convenzionato quello diciamo a prezzi di favore e in ultimo servono micropolitiche locali come la qualificazione delle periferie politiche puntuali circoscritte che oggi però hanno un valore generale nessuna politica può funzionare nello stesso modo in ogni parte della città bisogna riconoscere differenze e agire sulle aree di difficoltà e di svantaggio dunque ne servono di specifiche di politiche vanno migliorati i luoghi va eliminato il degrado vanno superati i punti fuori controllo questo vuol dire non solo rendere le nostre periferie vivibili e godibili ma renderle anche più sicure ciò si può fare anche con strategie partecipative per la cura e la gestione pubblica dei beni comuni anche da parte dei cittadini organizzati degli attori della cittadinanza attiva quartiere per quartiere pensiamo per esempio ai cittadini che sono in pensione che non hanno più un lavoro attivo che possono avere esperienze sottolineo esperienze e tempo da mettere a disposizione per il bene della collettività come avviene già in molti comuni italiani sulla base di protocolli di specifici regolamenti la pianificazione e la gestione partecipate sono rese più facili oggi dall'uso della rete e di dispositivi che consentono come il BIM il Building Information Modeling che consentono di immaginare plasticamente lo sviluppo delle innovazioni urbane quindi facilitano anche una partecipazione propositiva dei cittadini che vanno messi tutti alla pari ecco quelli di un centro storico come quelli di un quartiere di periferia mentre l'analisi dei big data urbani può aiutarci a mirare gli obiettivi inoltre si possono realizzare patti di comunità per potenziare i sistemi di welfare territoriale chiedendo ad attori privati e a fondazione donazioni e investimenti su progetti proposti dai comuni dalle unità amministrative di base fluidificando per parte dei comuni i procedimenti burocratici e facendo crescere così la reputazione sociale dei donatori ecco queste sono alcune proposte generali o specifiche sulle quali ci proponiamo di lavorare e di discutere stamani grazie allora partiamo con l'intervento di Angel Miree coordinatore coordinatore dell'accoglienza dei rifugiati politici del governo della Catalogna grazie buongiorno anche il annuncio di mi posto di lavoro actual è come responsabile di politici di acogida del governo catalan l'accoglian sobre questa question per la tarda a le vorrei explicare una experiencia concreta di questo momento in questa prima parte vorrei parlare del periodo che estive del anno 2011 al 2015 come gerente di qualità di vita e deporti del Ayuntamento di Barcelona questa area comprendia aspectos tan diversos come la pobreza joven e adolescentes infanzia persone mayores género lgbtbi migracione asuntos religiosos etc e deporte deporte tambien me tocò un poco raro la inclusione del deporte incluso del deporte de elite en este ámbito anche la città di Barcelona è abbastanza conosce a nivel europeo però sì che per marcar a che poi expondré sì che chissera dar alcunos dati sobre la città Barcelona tiene una población aproximadamente de 1.650.000 habitantes aunque l'area metropolitana è de 5.500.000 casi la conurbación urbana de Barcelona il PIB per habitante è un PIB elevato 43.700 euro e la tasa di paro è molto baja la tasa di paro è del 6.5% però Barcelona ha diversas caras una è questa cara un prodotto interior brutto alto è una città reconocida internacionalmente però la città città per esempio è che hai 1200 persone che duermen in la calle e aproximadamente 3.500 che non duermen in la calle perché están acogidas en centros del gobierno municipal o del gobierno catalan però che sono 3.500 persone che chiamiamo sin vivienda e ademais e è lo più preoccupante un 36% de la población de Barcelona tiene serias dificultades relacionadas con la exclusión residencial ha habido si ustedes conocen Barcelona en este momento es una ciudad de casi tanto turismo como el que pueda tener Roma o París y por tanto los precios de las viviendas han subido muchísimo de forma que se produce un fenomeno de exclusión social de huida de los jóvenes de la ciudad por no poder pagar los precios tanto de alquiler como de compra de vivienda en Barcelona existe un fortísimo tejido social y comunitario si consultan hoy mismo la web del Ayuntamiento de Barcelona verán que tiene cerca de 11.000 asociaciones registradas 11.000 para una población en este caso de estrictamente de la ciudad de 1.700.000 personas les decía al inicio que quería explicarles esta experiencia del 2011 al 2015 porque me parece una experiencia que guarda una relación con lo que es el objeto de estas jornadas en cuanto llegamos al ayuntamiento antiguamente era otro gobierno en este caso era el gobierno de alcalde Xavier Trías un alcalde de una fuerza catalanista de centro en aquel momento se llamaba Convergencia y Unió hoy tiene diversas derivaciones en el ámbito de que ya saben ustedes que en Cataluña hay un conflicto abierto en este momento pero la primera el alcalde nos reunió a los seis o siete gerentes municipales y nos dijo dos frases importantes para nosotros nos dijo los políticos en la calle y los gerentes en los despachos no quiero que los gerentes hagan política en el sentido más estratégico y no quiero que los políticos intervengan en la gestión esto supone una novedad importante al menos a nivel español no sé en otros países pero es importante porque muchos de los problemas a veces que hemos tenido ha sido la mezcla entre gestión y política y por tanto la situación era desde un punto de vista incluso jurídico tan especial como que ni los gerentes podían firmar todos los contratos todas las asignaciones pero tampoco los políticos es decir tenía que haber un acuerdo entre ambas partes el ámbito de gestión y el ámbito estrictamente de estrategia es decir de cuál era el diseño de la ciudad cuáles eran los principios que debía tener esta coalición y es el segundo principio que más encaja con el tema de debate de hoy es que para la gestión los gerentes debíamos implicar a todos los actores de la ciudad especialmente a las entidades sociales bueno además de las entidades sociales se nos pedía también la cooperación con todas las instituciones en primer lugar políticas de la ciudad que en Barcelona son muchísimas creo que no me olvidaré ninguna pero está la en el propio estado español el gobierno catalán se llama la generalitat el gobierno catalán la diputación de Barcelona que es una entidad que agrupa todos los municipios de lo que es la provincia de Barcelona entidades metropolitanas que gestionan ámbitos como el de transporte residuos etcétera pueden imaginarse que en este contexto cualquier toma de decisiones es extremadamente compleja puesto que los niveles de las administraciones son distintos y a veces o muy a menudo de colores políticos de formaciones políticas también distintas y a veces muy distintas en primer lugar pues lo que hicimos fue buscar una intensa participación política de los usuarios de los servicios públicos tengo que reconocer que nunca tuvimos claro cuál era la representación democrática de estos colectivos es decir pusimos en marcha 18 consejos de participación por ejemplo de personas mayores de personas con discapacidad física y psíquica de inmigrantes etcétera y funcionaron bien pero siempre con la duda al menos por mi parte siempre tuve la duda de si aquellos que representaban a un determinado colectivo verdaderamente tenían la sensibilidad para representar a todo el colectivo y no solamente aquellas entidades a las cuales pertenecían esto es un problema grave que desde el punto de vista democrático no está absolutamente resuelto partíamos de la premisa de que las experiencias más satisfactorias son aquellas que se basan en la colaboración desde el primer momento y una estrategia de ganar ganar win win aunque por la tarde he dicho antes me referiré a dos experiencias concretas pero en en los minutos que me quedan lo que voy a intentar es exponer los principios que aprendimos lo que aprendimos a partir de esta experiencia de voluntad cooperativa y colaboradora en en cuanto la estrategia de beneficio mutuo la primera se basa en la confianza entre las partes este era el primer principio la empatía la visión a largo clase y el cuidado de los detalles esto parece obvio pero no es tan sencillo las propias entidades sociales o las entidades de naturaleza diversa pero también el propio ayuntamiento tiene tendencia a vender proyectos no sé si la expresión vender se puede traducir directamente pero a intentar explicar tu proyecto para que el otro lo compre en este caso aprendimos que era necesario que esto no se plantease así sino que hubiera un principio de confianza entre todas las partes la segunda cuestión que aprendimos es que los tiempos y los procesos son distintos y que por tanto teníamos que empatizar con la cultura del otro por ejemplo la administración pública no sé también aquí pero en España es muy lenta muy lenta los procesos de control administrativo son extremadamente complejos se ha creído que para combatir la corrupción se deberían establecer una multiplicidad de procesos de control esto al final ha llevado a un efecto contrario al perseguido no sé hasta qué punto se ha perseguido la corrupción pero en cambio lo que sí se ha hecho es un mal favor a la gestión en beneficio del bien común puesto que por ejemplo una convocatoria pública en este momento en Cataluña tarda aproximadamente ocho meses ocho meses esto no permite gestionar adecuadamente por ejemplo las vinculaciones entre el sector público y este sector social otro principio que también parece una obviedad pero que también nos interesó compartirlo fue que debíamos siempre intentar mirar por el bien común ya sé que esto parece una ingenuidad pero en algunos foros de debate de estas instituciones de estos 18 grupos fue un tema que fue objeto de debate otro principio es el de la transparencia este nos parece fundamental debe ser la norma en la comunicación incluso interna es necesario que la información sobre los acuerdos los pasos dados y los resultados fluyan hacia todas las partes de manera que cualquiera de estas partes que coadyuvan con el gobierno municipal puedan conocer el estado de cualquier proyecto en todo momento en la comunicación externa este es otro principio hay que cuidar tanto el contenido el mensaje como las formas y los gestos es importante que el lenguaje además de ser claro y comprensible refleje que lo que se está explicitando hacia los medios hacia la ciudadanía es refleja la autoría y la responsabilidad compartidas de todos y por tanto el gobierno local no puede ser la única voz que explica los proyectos de este municipio inclusivo los otros actores deben también ser las caras visibles es decir cuando hay un éxito no puede ser que se plantee una rueda de prensa donde aparezca solamente el alcalde los concejales o los funcionarios públicos sino que al lado de de estos responsables políticos deben aparecer todas las entidades que han participado en los proyectos municipales y finalmente expondré los requisitos que entendemos que favorecieron estas alianzas locales para abordar estos retos de ciudad primero tener una visión de la ciudad hay que plantear una línea estratégica hay que saber hacia dónde quiere ir esta ciudad tenemos que disponer de un horizonte no podemos dispersar las energías de la ciudad y de las entidades hacia cualquier dirección y además en función de las emergencias comunicativas de las emergencias políticas del día a día sino que debemos tener una visión global de la ciudad y un camino que recorrer segundo tenemos que profundizar en el trabajo interdepartamental el riesgo en todas las grandes instituciones como los gobiernos locales como los gobiernos regionales o como los gobiernos estatales es que se fragmenten los departamentos y cada departamento intente tener su propia estructura y su propio éxito sin tener en cuenta el éxito colectivo del conjunto de ciudadanía y el conjunto del gobierno por tanto hubo que hacer nos propusimos y en este caso sí que creo que conseguimos trabajar desde una perspectiva muy interdepartamental muy de todos los departamentos del propio gobierno municipal tercero que parece una obviedad pero que también yo creo que fue una clave de algunos de los éxitos también tuvimos fracasos por supuesto que es fundamentar la acción sobre proyectos concretos la ciudadanía sobre todo se moviliza por cuestiones muy concretas más que por planteamientos abstractos la defensa de un parque público la seguridad de un barrio un desahucio son situaciones que implican y animan a la participación y a la implicación uno de los factores que debilita a las alianzas es la sensación de seguir un itinerario errático que no sabe exactamente dónde va cuarto convocar a todas las partes por tanto cuando se habla de resolver retos sociales si realmente creemos en la idea del municipio inclusivo hemos de convocar a todo el mundo no puede ser que alguna parte de la ciudad la que no nos gusta la que no se acerca más a nuestro proyecto global sea apartada por tanto otras entidades sociales que son contrarias al gobierno municipal entidades empresas sector educativo medios etcétera todos un quinta un itinerario creciendo de compromiso las pequeñas acciones con éxito aquellas pequeñas acciones a las que nos hemos referido o concretas facilitan el camino sexto el rol de la persona técnica municipal muy importante es fundamental y esto lo entendí enseguida desde desde esta área que yo gestionaba que tenía más de tres mil trabajadores pero que era fundamental que el funcionario público se sintiera implicado también en esta alianza es decir que no entendiera las alianzas del ayuntamiento con las entidades con las empresas con todos los sectores con los que intentamos construir un proyecto de ciudad que no que no se sintiera también parte y por tanto que era fundamental darle voz para armonizar también y estar presente en el día a día de estos debates finalmente algunas cuestiones a cuidar especialmente y con esto a cabo son utilizar en la práctica utilizar un lenguaje inclusivo que haga sentir cómodo a todos los actores por ejemplo no hablar del ayuntamiento sino hablar de nosotros nosotros el grupo todos aquellos que hemos participado e fundamental fundamental y ahí eso lo aprendimos enseguida cumplir estrictamente y con puntualidad los acuerdos una cosa son los acuerdos el diseño el proyecto la estrategia y otra es la realidad por tanto en las reuniones con todos los actores tomar actas levantar actas levantar determinar fechas concretas si no se pueden cumplir explicitar el porqué y en cualquier caso esta exigencia debe ser no solamente para el gobierno municipal que eso es otra de esas cosas que a veces también se entiende que los derechos solo son de las partes digamos no gubernativas sino que los acuerdos debían cumplirse por todas las partes si no había una cierta tendencia también de que las entidades sociales las entidades participativas venían a las reuniones daban su opinión y luego se iban y esperaban a que el ayuntamiento determinase aplicase en definitiva cumpliese los acuerdos a través de un trabajo interno no nosotros insistimos mucho en que todas las partes todas las partes implicadas cumpliesen también de esta forma los acuerdos bueno pues yo creo que con esto insisto que después sí a las dos creo que voy a hacer voy a tener la satisfacción de presentarles también una buena práctica en este caso del ayuntamiento de barcelona que es tuvimos el premio más importante en el mundo yo creo que hay social que es el premio de la fundación Bloomberg dotado con 5 millones de euros y otra práctica que esta es actual de la cual que es modesta pero de la que nos sentimos muy satisfechos que es que hemos conseguido desde el gobierno catalán que un colectivo de personas refugiadas ubicadas en el Líbano que debieron dejar sus estudios universitarios como consecuencia justamente de los conflictos bélicos hayan podido venir a Cataluña e continuar sus estudios universitarios en Cataluña pues un acuerdo también muy participativo en el que han intervenido las 12 universidades catalanas las 8 públicas y las 4 privadas la embajada española es decir un montón de actores que nos permiten que hoy haya un colectivo a estas personas que estaban refugiadas en el Líbano y que hoy están estudiando enfermería ingeniería etcétera muchas gracias por su atención gracias ahora visiones y experiencias de la Polonia con la presidente Danuta Kaminska y con el padre Tadeo Zanowski que darán el loro contributo Danuta Dzień dobry Dzień dobry Państwu Przede wszystkim pragniemy bardzo gorąco podziękować organizatorom za zaproszenie do udziału w tym kongresie Jesteśmy z Katowic to jest stolicy górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii liczącej moment moment słychać ok pragniemy region ma ma bardzo bogate doświadczenia wielokulturowości tu przenikały się wpływy kultur słowiańskich germańskich różnych religii i wyznań u początków XIX wieku w rozwijającym się przemysłowym mieście centralne miejsce zajmowały kościoły ewangelickie katolicki i synagoga a w szkołach uczyli nauczyciele katoliccy pasterze ewangeliccy i rabini dziś Katowice to miasto nowoczesne wielokulturowe wielowyznaniowe i wieloreligijne od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku mieszkają tu także muzułmanie oraz wyznawcy innych religii jako władze miasta i regionu świadomi jesteśmy odpowiedzialności za tworzenie warunków do harmonijnego współistnienia w takiej różnorodności trzeba podkreślić że istotny wkład w tym względzie z racji szczególnych kompetencji dotyczących prowadzenia dialogu ma lokalny kościół katolicki który we współpracy z kościołem ewangelicko-absburskim i pracoposławnym oraz wspólnotami innych religii zwłaszcza Żydów i muzułmanów kreatywnie inicjuje i prowadzi liczne działania na rzecz formacji mieszkańców naszego regionu do otwartości i wzajemnego szacunku i tu niewątpliwie szczególną rolę pełni ruch w okolarii którego my władze samorządowe postrzegamy jako kompetentnego partnera we współpracy na rzecz dobra wspólnego poprzez aktywizację postaw obywatelskich do otwartości na każdego w 2015 roku mieliśmy okazję gościć w naszym magistracie panią prezydent ruchu w okolarii Marię Focze i współprezydenta Jezusa Morana wraz z towarzyszącymi im osobami to wystąpienie wspólne z przed państwem wraz z księdzem Tadeuszem jest dowodem a zarazem świadectwem współpracy lokalnych władz samorządowych ze wspólnotami religijnymi jestem delegatem arcybiskupa metropolity katowickiego do spraw dialogu międzyreligijnego mogę powiedzieć że ruch w okolarii w tym obszarze dał zasadniczy impuls już w 1991 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszym mieście Chiareluwich która była w Polsce z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży było to historyczne bo pierwsze spotkanie prawie siedmiu tysięcy członków w okolarii z Europy wschodniej i zachodniej charyzmat Chiareluwich dając konkretne podstawy do prowadzenia dialogu międzyreligijnego w wymiarze antropologicznym i teologicznym przynosi konkretne owoce w wymiarze społecznym ten kto jest obok mnie został stworzony jako dar dla mnie a ja zostałam stworzona jako dar dla tego kto jest obok mnie na ziemi wszystko ze wszystkim jest w relacji miłości każda rzecz z każdą rzeczą trzeba jednak być miłością aby odnaleźć złotą nić łączącą byty mówi Chiara Lubich wpisując się w nauczanie kościoła który już podczas Soboru Watykańskiego II jasno podkreślił że nie odrzuca niczego z tego co w różnych religiach jest prawdziwe i święte papieska rada do spraw dialogu międzyreligijnego postrzegał dialog jako całokształt pozytywnych i konstruktywnych stosunków międzynarodowych z osobami i wspólnotami innych religii mających na celu wzajemne poznanie i obopólne wzbogacenie pozostając jednak wiernym prawdzie i respektując wolność każdego implikuje świadectwo i pogłębienie swych przekonań religijnych a zatem zachowanie własnej tożsamości Chiara Lubich w tak rozumianym dialogu wskazuje na złotą zasadę obecną prawie we wszystkich księgach wielkich religii jako podstawę etyczną a zatem wszystko co byście chcieli żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie pytamy w tym panelu o niezbędne kompetencje do pełni obywatelstwa w kontekście wielokulturowości pytamy zatem o zdolności niezbędne do prowadzenia dialogu Chiara Lubich mówi że prowadzić dialog to przede wszystkim ustawić się na tym samym poziomie co rozmówca nie uważać się za kogoś lepszego od innych wysłuchać drugiego odsunąć odczucia i przywiązania aby móc wejść w drugiego i szukać tego co wspólne doświadczamy w naszych działaniach z ruchem że w kształtowaniu postaw obywatelskich niezwykle pomocna jest promowana w nich sztuka miłowania wielokulturowość to nie tylko różne narody grupy etniczne i kultury z doświadczenia widzimy żeby aktywizować obywateli na rzecz współrządzenia miastem trzeba dostrzegać ich potencjał jaki posiadają różne wspólnoty wyznaniowe i stwarzać im przestrzeń do przyjmowania wartości do wspólnych działań a przede wszystkim wspierać ich moralnie i konkretnie nasze doświadczenia pokazują też że współpraca lokalnych samorządów i podmiotów pozarządowych w tym ze wspólnotami religijnymi podnosi poziom świadomości obywatelskiej zdecydowanie wpływając na integrację społeczeństwa poza tym staje się świadectwem dla młodych pokoleń przytoczymy tu kilka przykładów działań z ich udziałem są to wydarzenia o charakterze religijnym którymi kieruje ksiądz Tadeusz wraz z liderami innych kościołów i religii na przykład coroczne obchody dni judaizmu 17 stycznia i dni islamu 26 stycznia i tu warto podkreślić że muzułmanie w dowód wzajemności 6 lat temu ustanowili dni chrześcijaństwa wśród muzułmanów a 3 lata temu dzień judaizmu wśród muzułmanów jak podkreśla sam mufti wspólnoty muzułmańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej jest to ewenement w skali świata wspieramy też różne działania w obszarze kultury i nauki w ostatnich latach ruch Focolarii wraz ze współpracą z innymi kościołami religiami i samorządem zrealizował kilka projektów o dużym znaczeniu kulturalnym i edukacyjnym na przykład koncert trzech religii dla pokoju w 2012 roku w tym roku będzie następna edycja tego koncertu jest to przepiękny koncert dalej projekty artystyczno-edukacyjne Start Now zrealizowany przez John Verden na Uniwersytecie Śląskim który został zwieńczony niezwykłym koncertem najbardziej prestiżowej sali koncertowej naszego miasta w 2015 roku są też sympozja i konferencje naukowe a także publikacje od siedmiu lat wydajemy jako miasto Katowice kalendarz trzech religii Żydzi chrześcijanie muzułmanie mamy właśnie na stole kilka i będzie można nawet zabrać ze sobą wśród wielu zadań jako priorytet stawiamy trzy podstawowe synergia różnych podmiotów regionu w tym wspólnot religijnych i wyznaniowych do objęcia szczególną troską w wymiarze kulturalnym a także religijnym imigrantów w szczególności z Ukrainy bo niech w Polsce jest najwięcej warto podkreślić że w ostatnich dwóch latach Polska przyjęła prawie 700 tysięcy imigrantów gwarantując im nie tylko pomoc w zakresie socjalnym lecz wielu z nich dostało także miejsca pracy kolejnym priorytetem to jest edukacja młodzieży w kontekście potrzeb wiążących się z nowymi wyzwaniami mamy na myśli postęp technologiczno informatyczny jak również wzmożone działania na rzecz pogłębienia świadomości ekologicznej w trosce o nasz dom o naszą ziemię na koniec chcemy podkreślić że staramy też się unaocznić owoce naszych działań w przestrzeni miejskiej kilka lat temu na jednym z placów w śródmieściu Katowic posadziliśmy drzewo nazywa się Bóg i umieściliśmy pamiątkowy kamień skałę jako symbol i świadectwo wspólnych działań chrześcijan różnych kościołów Żydów i muzułmanów i ludzi dobrej woli bo jak powiedział zwierzchnik katowickich Żydów nasze działania na rzecz dobra wspólnego tworzą historię Katowic dziękuję bardzo z grazie ora ascoltiamo l'esperienza e le idee di Zedin Elzil che è imam di Firenze e presidente della comunità islamica di Firenze della Toscana grazie buongiorno a tutti la mia testimonianza essendo che ho questo valore aggiunto di essere nato in un paese e sono cresciuto in un paese e vivo in un altro paese sono nato in Palestina nella città di Hebron ma da più di 27 anni sono fiorentino di adozione sono italiano perciò credo il ruolo della cittadinanza e di sentirsi cittadini di un paese ha un ruolo molto importante nel cercare non parlo di integrazione ma dell'interazione tra diverse realtà diversi concetti diversi fede religiose la mia realtà fiorentina e toscana in particolare ma si può parlare anche dell'Italia in generale ha permesso a noi di sviluppare momenti di cittadinanza e l'essere cittadino non solo l'avere un passaporto di un paese ma di essere fiero di vivere quella comunità di essere orgoglioso di vivere quella comunità di partecipare alla vita quotidiana di quella comunità questo non può avvenire se non hai una cultura di amare il prossimo di amare l'altro e di cercare di educare te stesso a questo processo di amare l'altro perché come abbiamo visto anche prima tutti le fedi religiosi come dottrina religiosa di amare il prossimo ma la questione non sono le nostre fedi religiose neanche le nostre costituzioni anche delle volte sono un problema dentro le questioni ma le questioni siamo noi se mettiamo in pratica questi principi di queste fedi religiose o realmente siamo bravi belli a dichiarare dichiarazioni belle allora la questione di educare noi stessi quelli che viene chiamato in arabo il jihad il sforzo che noi dobbiamo sforzare in un secondo in un attimo a vivere questi principi e per questo noi come comunità islamica fiorentina abbiamo proposto con la nostra comune di Firenze di fare patto di cittadinanza nonostante che il patto per tutti i cittadini è la costituzione ma essendo che stiamo vivendo momenti particolari e dobbiamo riconoscere che stiamo vivendo momenti difficili dove c'è paura l'uno dell'altro dove non c'è fiducia dall'uno e dall'altro e allora dobbiamo sottolineare i principi già esistenti della nostra questione italiana ma per dare un segnale di vera cittadinanza di piena cittadinanza proprio come si dice il titolo di questo incontro abbiamo voluto sottolineare tre questioni che crediamo che possano essere strumenti di fiducia e di amare e di sentirsi veramente cittadini il primo argomento spesso sulla comunità islamica essendo che parliamo l'arabo giustamente per l'altri è arabo e allora cosa stanno dicendo nella moschea in particolare il sermone del venerdì anche se realmente nessuno viene a sentire cosa diciamo ma abbiamo voluto sottolineare l'importanza dell'uso della lingua italiana all'interno della moschea sono sicuro che nessuno viene a sentire cosa diciamo ma già per il mio vicino cittadino fiorentino toscano italiano non muslumano sentire che noi parliamo l'italiano è un atto di fiducia e allora e questo non è che abbiamo voluto cancellare la lingua araba perché attenzione non è che deve essere un valore aggiunto perché se uno cancella se stesso vuol dire il nichelismo vuol dire il vuoto vuol dire peggio ma una scelta di responsabilità di dire di sottolineare che noi oltre all'arabo il sermone del venerdì lo facciamo in italiano che peraltro e questo lo facciamo per una questione interna della comunità perché i muslumani in Italia che sono un milione e otto la maggior parte di loro non sono arabofoni perciò quando faccio l'imam e faccio il sermone del venerdì se lo faccio in arabo e più di 50% dei fedeli non riescano a capire quello che sto dicendo è il ruolo dell'imam di cercare di trasmettere un pensiero o una testimonianza alla sua comunità e questo abbiamo visto veramente che la nostra comunità fiorentina toscana italiana ma direi anche europea ha bisogno di sentire che noi parliamo l'italiano dentro un'altra questione importante che è stata citata per questione amministrative ma qui per questione economiche ma questi muslumani da dove portano soldi da dove spendano questi soldi perché viviamo nell'era del terrorismo allora la questione della trasparenza anche questo nessun cittadino italiano viene a controllare i nostri conti ma dire che per noi la trasparenza è una questione religiosa è una questione etica è una questione civile e veramente fa tranquillizzare i nostri concittadini ma anche fa tranquillizzare i fideli della mia comunità perché credo la maggior parte dei problemi che nascano dentro un'unica comunità è questione economiche da dove vengano soldi e dove vanno spesi un'altra questione importante che abbiamo voluto sottolineare in questo patto che abbiamo fatto nel comune di Firenze poi anche a Pisa poi a Torino poi è diventato un patto nazionale la questione della democrazia della partecipazione all'interno delle nostre comunità e questo trasmette tranquillità all'interno della nostra comunità perché quando i fedeli sanno che ogni quattro anni c'è elezione di un direttivo nuovo di un presidente nuovo allora si crea si sviluppa la cultura della partecipazione infatti quello che noi abbiamo bisogno realmente di sviluppare una nuova cultura una cultura dell'amore una cultura della partecipazione una cultura di sentirsi fieri dove noi ci troviamo oggi mi trovo in Italia io sono fiero di essere cittadino italiano se domani decido di andare a vivere in America di sentirsi cittadino americano pienamente allora essere fiero di essere cittadino americano infatti abbiamo lavorato diversi testi diversi argomenti ma anche comunicazione all'interno della nostra comunità di essere un cittadino italiano di fede muslimana di essere un cittadino europeo di fede muslimana come abbiamo cittadini italiani di fede cristiana di fede ebraica di fede buddista ma anche diversamente credenti e questo non ha niente a fare di essere contraddizione con la fede perché spesso ma tu sei italiano o sei muslimano non c'entra niente io sono italiano di fede muslimana e se vado in Palestina sono palestinese di fede muslimana non è la fede è contraposta all'essere di questo paese o dell'altro paese un'altra questione molto importante ma quale qual è la tua costituzione la tua legislazione il corano o la costituzione italiana molto semplice la mia costituzione è la costituzione italiana ma non è che io perché l'ultimo è arrivato come imam o come persona ma il profeta dell'islam Muhammad la pace sia con lui invita i muslimani a essere cittadini del posto dove si trovano allora se mi trovo in un paese la legge di questo paese che io devo rispettare il corano stesso perciò non c'è contraddizione uno è il buon muslimano è il buon cittadino grazie 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 ora porta la sua testimonianza a Maurizio Certini che dirige il centro internazionale Giorgio Lapira a Firenze le parole di Lapira hanno risuonato nella prima giornata di questo convegno e credo che per molti di noi che hanno fatto l'esperienza di amministratori locali sindaci assessori consiglieri comunali sono una fonte di ispirazione vera buongiorno a tutti allora non è facile in cinque minuti diciamo dare un quadro di quarant'anni di storia perché il centro Lapira è nato 40 anni fa nel 1978 a Firenze per iniziativa della diocesi fiorentina che constatava la difficoltà di tanti giovani studenti internazionali all'università di Firenze ancora non sentivamo l'onda dell'immigrazione nel 78 questa è arrivata dagli anni 80 subito dopo che si trovavano in difficoltà in solitudine con pochi mezzi spesso soprattutto che arrivava da paesi cosiddetti in via di sviluppo e la diocese che chiese a Chiara a Luvi di iniziare un'esperienza che avrebbe dovuto essere come una piccola porta aperta di una Firenze su un'Europa pronta disponibile e pronta a dare ma anche a ricevere da tutti e quindi la dimensione del dialogo interculturale interreligioso eccetera è stata un po' fondamentale per questa iniziativa noi abbiamo adesso circa un migliaio di persone che imparano l'italiano da noi centinaia di giovani o persone anche che cercano lavoro che vengono per attività culturali per chiedere consigli per utilizzare legali gratuitamente e facciamo un lavoro diffuso nelle scuole sul piano dell'intercultura con la collaborazione in rete con tante altre associazioni e con le istituzioni allora ecco il centro Lapira in questo contesto quindi Lapira diciamo è un faro ispiratore perché Lapira sindaco di Firenze ha promosso la città a livello internazionale facendo un'operazione nuova negli anni 50 del secolo scorso cioè facendo politica internazionale a partire dalle città quindi una cosa nuova una cosa diversa e lui diceva che le città non sono cumuli di pietre ma abitazioni misteriose di uomini anzi abitazioni misteriose di Dio gli stati passano perché i confini cambiano ma le città restano come realtà organiche storicamente costruite realtà vive che mutano naturalmente costantemente e poi non realtà chiuse ma aperte Firenze con le porte aperte unire le città per unire il mondo diceva infatti nell'ultima fase della vita lui era stato nominato prendendo il testimone da Senghor presidente del Senegal presidente della fondazione mondiale delle città unite e cos'è la città diceva la pira riprendeva un'idea rinascimentale di un architetto un urbanista fiorentino Leon Battista Alberti diceva ma cos'è la città la città è una grande casa per una grande famiglia quindi la dimensione della fraternità e qual è il compito del sindaco e della politica diceva beh il compito della politica è creare le condizioni perché i cittadini solidarizzino e si amino reciprocamente quindi il compito della politica è un compito molto difficile appunto un compito concreto e materiale ecco il centro della pira si inserisce appunto in questo filo di percorso virtuoso della storia sociale e culturale di Firenze che nonostante le sue caratteristiche di litigio di conflitto interno ha anche appunto un'idea di uomo che viene da rinascimento e che è un uomo che sviluppa le sue potenzialità tenendo conto del contesto sociale ambientale in cui si trova con senso di responsabilità lavorando appunto con senso di comunità volendo generare costantemente comunità conoscendo le debolezze ma anche le ricchezze del proprio contesto umano e sociale se guardo la storia di Firenze in questo senso la misericordia cioè un'azione per la salute dei cittadini e l'emergenza è nata nel 1200 andiamo al 1957 nasce partendo da altri presupposti l'Arci che è un'associazione culturale e decreativa legata al mondo della sinistra politica nasce anche questa a Firenze quindi esperienze diverse ma che dicono tutte la voglia dei cittadini di fare insieme di agire insieme di interessarsi insieme per il bene comune ecco il centro da Pira diciamo ha sviluppato un percorso su vari piani dalla cooperazione internazionale appunto alla cultura al dialogo interreligioso io mi fermo dicendo e chiudendo con tre o quattro piccole esperienze che riguardano questo aspetto del dialogo interreligioso soprattutto nell'ambito cristiano-islamico ci siamo conosciuti come Zedì nel 92 mi pare quando si è arrivato 91 quando si è arrivato a Firenze e da allora insomma non ci siamo più lasciati insomma abbiamo fatto un percorso insieme e insieme siamo cresciuti nel 1990 al centro della Pira dopo un percorso insomma che è durato anni è nato il primo centro culturale islamico toscano il centro è stata la prima aula di preghiera la prima moschè per qualche anno della comunità islamica fiorentina era naturale perché se il centro della Pira è una piccola casa dei popoli ognuno ha la sua stanza e queste stanze hanno le porte aperte e comunicano andando avanti le criticità come occasioni di sviluppo le criticità personali perché poi ognuno deve fare un lavoro per superare il pregiudizio che tutti ci portiamo dentro costantemente l'uno con l'altro ma anche internazionali nel 2001 crollano le torri di New York eravamo di fronte alla televisione vedendo in diretta questa tragedia e ci sentivamo impotenti che si poteva fare noi di fronte a un evento catastrofico di questa portata vedo Massimo Toschi qui perché lui era che ci invitò col presidente della regione toscana in Moschea era la prima volta che andavamo in Moschea anche col presidente della regione e lì le mamme della comunità islamica dissero al presidente ma noi abbiamo bisogno di mantenere la nostra identità culturale e quindi la lingua per i nostri figli la lingua araba in quel caso il giorno dopo noi iniziamo al centro Lapira una scuola di arabo con le mamme e contemporaneamente una scuola di russo per i bambini della comunità ortodossa russa beh questa esperienza è cresciuta è andata avanti per sette anni ha avuto sede da noi ma noi costantemente abbiamo fatto pressione all'ente locale perché doveva trasferirsi nell'istituzione pubblica e poi così è stato e queste scuole adesso curano moltissimi ragazzi in Toscana in modo autonomo con collaborazione istituzionale tante volte il volontariato arriva prima dell'istituzione ma poi è l'istituzione pubblica e la politica che dà le risposte strutturali ai problemi 2007 dietro queste esperienze e qui c'è anche la Letizia De Torre che allora era sottosegretaria alla pubblica istituzione ci chiama insieme ad altre realtà associative istituzionali italiane per dar vita a un documento molto importante per l'Italia ancora valido la via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione integrazione intesa come reciprocità buona reciprocità degli alunni stranieri e noi demmo in questo caso il nostro piccolo contributo nel 2014 abbiamo promosso la carta di Siena territorio chiesa e istituzioni insieme per l'integrazione e quindi integrazione che appunto che è buona reciprocità quindi tutta questa azione che cosa fa genera comunità è un'azione politica il percorso che abbiamo fatto di dialogo con gli amici musulmani è un percorso è una pedagogia del dialogo no? perché prima ci si conosce io il Corano l'ho letto dopo anni che ho conosciuto i Zedini però prima eravamo amici quindi ci si conosce poi ci si riconosce umanità poi siamo riconoscenti gli uni gli altri per quello che si è e per questo che si impara gli uni dagli altri quindi grati e poi guardiamo insieme sogniamo insieme il futuro che città vogliamo che futuro del mondo vogliamo questo ce lo chiediamo insieme e insieme agiamo in azioni concrete per promuovere questo futuro chiedendo alla politica cose nuove proponendo attraverso buone pratiche cose nuove mostrando che è possibile però poi chiedendo alla politica che faccia la propria parte perché la politica è che strutturalmente deve dare le risposte per il bene comune grazie grazie allora ora ci porta la sua esperienza di ricerca di progetti ci sono una realtà interreligie anche anche una associazione laica noi teniamo a questo interreligio e voi vedete alla fine che colorazione e che realità si prendete per noi e noi teniamo anche la notion di accan c'è dire che noi construisiamo una fraternità locale reale e noi non abbiamo di sens che nella fraternità che noi construisiamo tra noi la coherenza di ciò che posso dire oggi e voi dire oggi non ha di sens che con la realtà di la fraternità che ho con mes fratelli e mes sœurs di diverse religione accan oggi e noi tentiamo tanto che far se può di che le religione possono essere un vectore di paia in la città quindi l'un dei festival noi siamo creati per il 25 anniversario dei Rencontri d'Assise in 2011 initié Rencontri d'Assise initié par le pape Jean-Paul II e 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 che l'ensemble dei religieux puissent témoigner e montrer dans la cité e e e e e e e La famosa Croisette di Cannes, che tutti conoscono mondialmente, vedete l'ensemble dei religiosi della ville di Cannes marchano con il sorire, e è importante questo sorire, e sono stati di essere insieme, e sono stati in la città. Cannes ha reçu il prix di la Città per la Fraternità in 2015 per la nostra action. Io vi explico rapidamente, o in tutto caso, qualche témoignaggio che ci semblano importanti. Ci sono stati dei actions, dopo le montaggio di violenza che abbiamo vissuto in Francia. Il è importante di affirmer una altra parola, quindi c'è avuto delle banderolle che hanno affichato su tutti i lievi di culto cannoi. C'è stato in 2015 un altro festival, di nuovo ancora la Croisette, ma c'è stato il lendemain di profondi inondazioni che hanno touchato profondamente la ville. Non so se avete avuto vento di queste inondazioni a Cannes in 2015, ma c'è stato davvero ritornato la ville. Quindi abbiamo affermato, abbiamo questa piccola blanda, qualche persone sono mortate questo giorno, e con un rappresentante, Franck Schicli, al centro, un rappresentante e adjoint di la ville di Cannes per affirmer questa amica delle comunità religieose per la città. C'è stato di nuovo, abbiamo il nostro arbre, abbiamo anche l'olivier di Lappé, che è stato plantato a Cannes durante un festival. Quindi abbiamo anche il nostro arbre e abbiamo anche il nostro plaque. Abbiamo cercato di mettere in oeuvre delle démarche symboliche che possono affermare questa. Abbiamo anche gli actions directi nella città, ci sono dei actions di food for food, dove abbiamo preso dei giovani di diversi territori della ville di Cannes, abbiamo fatto delle equipe, e abbiamo fatto fare un tournoi di foot sui delle regole particolari, sui delle regole dei terrains di la paia, dove il che gagne non è il non è quello che marco il più di buti, ma è il più di più fair play. E l'équipe gagnante ha raggiato il suo pozo in nourritura, e questa nourritura ha dato in solidarietà a delle associazioni. Quindi ci sono altre action educative come in alcune classi. E io vi partagevo solo un testo di una figlia che, dopo aver assistito a una presentazione di una ora, dove noi eravamo tutti gli tre, di tre religion differenti, e rigolante, avendo la complicità che abbiamo creato al fur e a mesurati anni. E lei è venuta verso noi a la fine, e lei dice che mi ha cambiato 18 anni di educazione in una ora di tempo. E solo per il fatto di noi vedere insieme, complici, perché come vi ho detto tutto a l'ora, la realtà del messaggio è la realtà di ciò che vive. Quindi, il y a cet après-midi, il y aura più di dettagli, questa c'era la remise del Prichida per la Fraternita, questa c'era per la prima giornata internationale del Vivere Ensemble en Paia, che ha stato scritto per l'ONU il 8 décembre 2016, questa c'era il 16 mei 2017, dove noi siamo associati a la ville per la cittare, e abbiamo cercato anche di mettere in movimento, abbiamo stato in pieno festival del film il 16 mei 2017, quindi abbiamo cercato di fare un'esposizione in questo senso aupro di tutti i giornalisti che erano presenti nel Festival di Cannes. Quindi, vi faccio queste notizie perché potrei inserire l'après-midi, io vorrei solo riferire su qualcosa di importante per noi. ciò che abbiamo cercato di seguire l'appel di Dio su noi, ciò vuole dire che abbiamo cercato di sviluppare questa notion di discernimento collettivo insieme a una razza di essere che ci sia più ampia. Ciò vuole dire che nessuno di noi ha la risposta completa di la realtà del Vivere Ensemble a Cannes. Ci siamo obediati di sviluppare una confezione in l'altro, una benvenzione, una attitudine d'accueil, di la differenza, di l'escente active. E ciò vuole dire che in riunione, ciò vuole dire che in riunione, ciò vuole in permanenza fare questo lavoro su soi per sapere se ciò che ho voglia di formare, è se che ciò viene di l'Esprit-Saint, noi on va dire che gli chrattini, o è se che ciò viene di l'ego. E ciò vuole dire che ciò vuole dire che ciò vuole dire che ciò vuole. Non ne vissi più dettagli, ma vi poterete vi mostrare una piccola di questo che noi chiamo il Miracle di Florence. On ha stato merveilleusement accueilli par Maurizio e il centro Giorgio Lapira in novembre. e on poterà poter da poter di un'immagine cette même démarche con Catovice e per effettivamente creare i liens entre i movimenti e lì on initiò effettivamente una démarche pädagogica dans la fuline di ciò che abbiamo initiato il Voyaggio di Florence ma un'immagine per le bambino per les formare a la paia e formare a l'art d'aimè come Cara Lubbic ciò ha detto Grazie. A spiegare un modo molto concreto e attivo di fare co-governance. Grazie. Avete ancora cinque minuti di energia? Li finiremo subito, tranquilli. Immaginate un adolescente tra i 13 e i 17 anni. Quindi tempesta ormonale, protesta, fragilità, ha ancora bisogno di una famiglia, dei genitori, ma ha bisogno di lasciarli per crescere, per diventare un adulto. Immaginate 50.000 adolescenti che negli ultimi quattro anni hanno salutato i loro genitori in diversi paesi africani e sono partiti da soli, senza famiglia, 50.000. Hanno attraversato in molti casi il deserto, senza genitori. Hanno attraversato il mare mediterraneo, senza genitori. minorenni, eh? Adolescenti. E sono sbarcati sulle coste italiane. 50.000 negli ultimi quattro anni. Pieni di sogni, come ogni adolescente. Di paure, come ogni adolescente. E di energia, come ogni adolescente. Sono stati accolti in centri di accoglienza. Loro pensavano di poter mettere la loro energia in un lavoro. Poter dimostrare le loro capacità, aiutare le loro famiglie. Molti di loro pensavano di andare in un posto diverso dall'Italia. La maggior parte di loro voleva andare in Libia. Molti volevano andare nel nord Europa. Pochi in Italia. Ma l'Italia che si immaginavano, l'Europa che si immaginavano, era completamente diversa. Era quella della pubblicità, che ha detto Marco all'inizio. Che non esiste, nei fatti. Bene, nei centri di accoglienza gli è stato proposto di studiare per quattro o cinque anni prima di lavorare. Un anno per la lingua italiana. Un anno per la licenza media. Due anni per assolvere l'obbligo scolastico. Non ce la fanno, come molti adolescenti. Il rischio che molti di loro hanno corso e corrono tuttora è molto simile a quello di molti adolescenti delle regioni meridionali dell'Europa. 50% di disoccupazione giovanile nelle nostre regioni meridionali di cadere nelle maglie della criminalità organizzata. Mano d'opera che costa poco, che ha tanta voglia di lavorare, energia, ci sa fare, è facile. È un gioco in cui perdono tutti. Perdono loro, i giovani che arrivano, perdono i giovani italiani e perde la società europea che li accoglie. Perché cresce la criminalità. Ecco, in un minuto vorrei farvi vedere qualche immagine di quello che abbiamo cercato di fare insieme a loro. Se si può mandare il video di un minuto. Ahmed aveva 15 anni quando ha deciso di lasciare l'Egitto per approdare in Europa, dove i suoi fratelli sono già sbarcati da un po'. Per convincere i trafficanti a farlo salire su un barcone servivano migliaia di euro. Lui non li aveva. Alla fine ha ottenuto un passaggio gratuito in cambio di supporto agli altri viaggiatori. Arrivato in Sicilia, Ahmed è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora sta pagando il debito con la legge italiana. Gabriele fatica a trovare la sua strada. Ha 18 anni e vive con la sua famiglia vicino Catania. Non si droga, non è un delinquente, ma la sua irrequietezza da adolescente lo ha portato ad abbandonare la scuola e non capisce cosa fare nella vita. Ahmed è a Ragusa, Gabriele a Catania. Con un gruppo di coetanei africani, asiatici e italiani stanno imparando un mestiere. Alla fine del loro percorso troveranno un'opportunità di lavoro per ricominciare e una famiglia in Italia pronta a sostenerli in questo percorso. Tutto questo è fare sistema oltre l'accoglienza. Ecco, quello che abbiamo provato a fare in questi tre anni molto sinteticamente è stato costruire, mettere insieme in tutta Italia circa un centinaio di famiglie 60 imprese, 40 associazioni e organizzazioni della società civile e provare insieme a seguire i percorsi di integrazione di circa 160 adolescenti, migranti e italiani insieme cercando con le aziende opportunità di formazione professionale in azienda quindi contratti di apprendistato, di tirocino, di lavoro temporaneo ma abbinati a una famiglia italiana una o più famiglie italiane che fossero il luogo di costruzione di relazioni che per tutti sono importanti e per gli adolescenti ancora di più relazioni affettive, di amicizia sport con le associazioni e questa rete con questi 160 adolescenti in molti casi è riuscita a trasformare quell'elemento di paura quella persona straniera che fa tanta paura a chi accoglie in un'opportunità in un valore aggiunto come si diceva prima vi faccio l'esempio solo di qualche ragazzo ad esempio in Calabria che è arrivato chiedendo solo di studiare e fare sport se possibile beh, nella sua città in provincia di Cosenza dove la domenica, il sabato allo stadio era deserto perché è una categoria non so neanche quale categoria giocasse la squadra lui è entrato nella squadra di calcio e grazie alle sue capacità perché ce le aveva innate ha rianimato la società sportiva lo stadio si è riempito i giovani sono tornati a interessarsi allo sport al calcio perché lui è un campione di calcio ma naturalmente si è potuto scoprire perché gli è stata data la possibilità ed è diventato un valore aggiunto per quella città grazie vi ringrazio tutti credo che abbiamo ascoltato esperienze contributi di idee anche di ispirazione che possono essere una matrice per il percorso di lavoro che ci attende avremo una tappa importante nel 2020 che corrisponderà ad un anniversario molto importante per il movimento in questo percorso in questo percorso varranno i contatti tra esperienze reali concrete e varranno anche la generazione di idee di germogli di idee nuove che abbiamo sentito in questo caso anche sul versante della necessità di integrare di accogliere di cooperare laddove anche il dialogo interreligioso è una base importante una nervatura importante che può far vivere meglio le nostre città grazie a tutti